Buonasera, buonasera a tutti, a tutti coloro che ci seguono da remoto. In realtà avevamo sperato di riuscire a fare dal vivo questo incontro, ma l'aggravarsi della pandemia ha creato difficoltà a poter avere l'incontro in sede e quindi continuiamo questa tradizione che ormai è consolidata in questi mesi di sviluppare e organizzare la nostra discussione utilizzando le piattaforme da remoto. Discutiamo questa sera di un libro, un breve ma denso libro di Roberto Mordacci, Ritorno a Utopia, edito dalla La Terza, piccolo libretto ma che si legge con interesse e con piacere e per discutere abbiamo con noi Mario Ricciardi, filosofo del diritto, in realtà coinvolto in questa discussione perché in più occasioni recentemente Mario ha manifestato interesse a riprendere, a riproporre il tema dell'utopia. L'abbiamo affrontato assieme nella scuola di cultura politica e mi sembra quindi giusto pensare a Ricciardi come l'interlocutore naturale di questo lavoro di Mordacci. Io qui entrerei nel merito alla discussione e darei la parola a Mario per cominciare a sviluppare i temi proposti da Roberto nel suo libro. Prego Mario. Sì, grazie Ferruccio. Allora, il libro è questo qui, lo facciamo vedere a bene di persone che ci seguono da casa. Ritorno a Utopia, pubblicato dalla Terza. Il libro in realtà, come dicevamo prima di andare live, è già uscito da qualche mese, però in qualche modo in questa strana dimensione nella quale ci troviamo a vivere tutti da un po' di tempo, anche i libri hanno una vita un po' più, come dire, diversa da quella normale. La discussione, la circolazione dei libri sta assumendo un ritmo forse meno frenetico di quel che era un po' di tempo fa e questo può essere anche considerato un aspetto positivo da un certo punto di vista, tanto che ci troviamo qui oggi a discutere questo libro che probabilmente, se non fosse stato per la pandemia, avremmo discusso qualche mese fa. Il libro di Roberto Mordacci è un saggio filosofico, ovviamente, ma si riferisce, è pensato, è stato scritto per un pubblico che non è semplicemente un pubblico accademico, è un libro che si legge con grande piacere, non voglio dire che sia un libro facile, perché ovviamente richiede applicazione come tutti i lavori seri, ma c'è un grosso sforzo per cercare di rendere i temi che vengono affrontati quanto più possibile comprensibili anche ai non addetti ai lavori. È un libro che secondo me ha un grande pregio tra gli altri, però diciamo questa è la cosa che a me è piaciuta di più leggendolo, cioè che è un libro che riporta un po' il tema dell'utopia a una discussione sostanziale e che in un certo senso ritorna anche all'esame e all'esigenza di leggere, o in alcuni casi di rileggere, una serie di testi classici. L'espressione utopia negli ultimi decenni per via di una serie di tendenze culturali, su cui magari poi potremo tornare più avanti, era diventata un po' un'espressione che si usava soprattutto in un senso un po' liquidatorio, quando non addirittura negativo. Le grandi utopie del Novecento, quando si parlava di queste cose, di solito si alludeva a vicende che non venivano affatto valutate in senso positivo, ma anzi come ideologie politiche che avevano dato dei risultati soprattutto negativi. Invece qui, in questo libro, Roberto Mordacci ci aiuta un po' a ripercorrere la storia di questo concetto, a partire dalle origini della parola, che associamo essenzialmente all'opera di Thomas More, Utopia, su cui il libro si sofferma a lungo, e anche alla interessantissima storia che poi questa nozione, che ha delle sue caratteristiche che Roberto Mordacci, secondo me, che correttamente riconduce essenzialmente a questo testo fondativo, potremmo dire, della letteratura utopistica. Dicevo, questa storia ci consente anche di comprendere poi come si arriva alla leggenda nera dell'utopia tardo-novecentesca e perché noi oggi facciamo un po' fatica ad accettare, diciamo così, un discorso in termini positivi sull'utopia, come in effetti c'è in questo libro. Il titolo del libro di Roberto Mordacci è Ritorno a Utopia ed è un ritorno per molti versi felice, nel senso che Roberto Mordacci difende, lo vedremo tra un attimo il ruolo dell'utopia tra le varie forme di riflessione sulla società, sulla politica, sui rapporti tra gli esseri umani. Sin dall'inizio del libro queste caratteristiche del momento in cui stiamo vivendo, sono presentate da Mordacci come un bisogno che si sta manifestando negli ultimi tempi di utopia e come un bisogno che però noi non dobbiamo semplicemente accettare come una sorta di voga intellettuale o spirito del tempo, perché richiede un impegno intellettuale da parte nostra. Un impegno innanzitutto che ci conduca a riscoprire la ragionevolezza del pensiero utopico, cosa che soprattutto nelle letture più recenti, nelle letture critiche e in un certo senso denigratorie dell'utopia veniva in larga misura persa, per così dire, o comunque messa molto in secondo piano, e poi anche alla necessità di sciogliere un po' una serie di equivoci che proprio per via di questi fraintendimenti, anche di queste falsificazioni si potrebbe dire, della tradizione utopica, ne hanno un po' oscurato la natura. Negli ultimi tempi noi ci siamo in un certo senso arresi a quello che possiamo considerare il lato oscuro dell'utopia, cioè alla lettura di tutte le utopie in una chiave distopica. E questo però, come dice giustamente Mordacci proprio all'inizio del libro, è qualcosa che ci ha in un certo senso privato della possibilità di pensare in avanti, cioè nella misura in cui, come vedremo, l'utopia ha a che fare con il senso della progettualità, con la capacità del pensiero politico di proiettarsi verso un futuro possibile, oscurare l'utopia, renderla qualcosa di completamente negativo, ci ha in un certo senso privato del futuro, della capacità di pensare il futuro. Il libro, come diceva Ferruccio Capelli, non è un libro lunghissimo, è un libro di malincirca un po' più di 200, no, 144 pagine, diciamo, quindi non arriva a 150 pagine, però riesce in maniera, secondo me, molto equilibrata a presentare una storia, potremmo dire, della nozione di utopia. Partendo da Thomas Moore, attraversando quella che poi è la prima fase della letteratura del pensiero utopistico moderno, con Tommaso Campanella, con Francis Bacon, e poi attraverso l'illuminismo, dove l'idea dell'utopia trova la propria manifestazione per molti versi forse più fertile, perché è quella che poi metterà in moto i grandi movimenti di emancipazione che diventano delle forze storiche nel corso del XIX secolo, ci conduce fino al Novecento e fino ad alcune, per certi versi insospettabili, almeno insospettabili per chi non si occupa di queste cose, riscoperte dell'utopia che abbiamo in Pensatori Contemporanei. A me ovviamente c'è una parte molto interessante dedicata alla discussione di Ernest Bloch, ma dal mio punto di vista io ho particolarmente apprezzato la discussione dell'idea di utopia in Robert Nozick e in John Rawls, due autori che probabilmente molti non associerebbero all'utopismo, nonostante il fatto che il libro di Nozick contenga l'espressione utopia nel titolo. Però, come giustamente dice Roberto, la parte dove c'è la discussione della dimensione utopica della teoria di Nozick è quella normalmente meno letta, di un libro di cui per la verità si fa una lettura molto selettiva, perché molti vanno poco oltre il famoso argomento di Will Chamberlain e poche altre cose. C'è una cosa molto importante che viene all'inizio, viene immediatamente introdotta verso l'inizio del libro e che poi viene esaminata in maniera più dettagliata nel corso dell'argomentazione. Spesso quando si parla di utopia si evoca il nome di Platone, la società perfetta, la repubblica di Platone e così via. Una delle cose, secondo me, migliori, più convincenti e anche meglio scritte di questo libro, comunque ben scritto, è proprio la parte in cui Mordacci, senza entrare nel groviglio delle questioni interpretative che riguardano il pensiero di Platone, però fissa alcuni punti fermi che secondo me sono importanti per capire in che senso Moore rappresenta una novità rispetto al pensiero sulla società perfetta dell'antichità. In particolar modo mi fa piacere leggere un passaggio dove questa cosa è detta in modo molto chiaro e anche particolarmente efficace, quando a un certo punto Roberto Mordacci, per introdurre la distinzione tra l'idea di una società ideale, di una società perfetta che noi troviamo, per esempio, nella Repubblica di Platone e invece l'utopismo moderno e in particolar modo l'utopia di Moore, dice che nel secondo caso si pensa alla realtà sociale come realmente plasmabile secondo un ordine ragionevole e giusto e non ci si limita a contemplare l'ipotesi astratta di un mondo perfetto. In particolar modo questa idea, cioè l'idea che l'utopia abbia a che fare con obiettivi che sono possibili, anche se possono essere molto difficili da realizzare e in certe circostanze storiche essere, sia pure in maniera contingente, fuori dalla portata di una trasformazione politica efficace, è legata secondo me a quello che forse è il punto più interessante del modo in cui Roberto Mordacci rilegge la tradizione dell'utopia, cioè l'idea che la riflessione sull'utopia abbia a che fare con la comprensione di quelle che sono le precondizioni di una società giusta. Qui mi piace richiamare un autore che, se non ricordo male, Mordacci non menziona, ma che conosce benissimo, quindi non lo sto dicendo come si fa di solito le presentazioni perché non ha citato quello, va benissimo nell'economia di un libro di questo tipo, però secondo me è interessante ricordarlo in una discussione, cioè Thomas Nagel. Thomas Nagel in uno dei suoi lavori, a questo punto non posso dire recenti perché è della fine degli anni 80, inizio del 91 per la precisione, che è Equality and Partiality, non mi ricordo più quale fosse la traduzione, era uscito per il saggiatore, adesso credo che sia fuori commercio, non mi ricordo più quale sia il titolo che avevano dato alla traduzione italiana, a un certo punto parlando del problema dell'utopia e del pensiero utopico che lui discute proprio in uno dei capitoli introduttivi di questo libro, tra l'altro molto significativo perché Thomas Nagel scrive quando le vicende dell'89 si sono appena concluse, quindi scrive a caldo ed avverte, cosa abbastanza rara per i filosofi che appartengono a quel mondo, diciamo al mondo della discussione accademica sulla teoria della giustizia, avverte l'esigenza di fare i conti, con il crollo del socialismo reale e con quello che questo che appariva in quel momento come un fallimento indiscutibilmente, un fallimento molto pesante, significa per autori che comunque sono impegnati a pensare a una società giusta. E appunto Thomas Nagel dice a un certo punto il problema del pensiero utopico può essere concepito come il problema di scoprire quali sono i limiti, quali sono le condizioni che in qualche modo devono essere soddisfatte perché una società possa essere considerata una società ben ordinata. E io ho l'impressione che questo sia un tema che c'è anche sullo sfondo del libro di Roberto Nordacci e che questo renda però, e questa non è una critica, voglio dire, è più che altro un'osservazione che semmai chiede a Roberto un approfondimento, perché sono convinto che questo è un tema sul quale lui ha certamente delle cose da dire, mostra il legame in un certo senso essenziale, ineludibile, che c'è tra l'utopia, come lui la descrive, e la giustizia. Se il pensiero utopico ci porta a pensare la realtà come plasmabile secondo un ordine ragionevole e giusto, in un certo senso noi non possiamo pensare l'utopia se non abbiamo una qualche idea di che cosa è la giustizia. Le due cose nella modernità effettivamente a me pare, proprio sulla base del resoconto storico offerto da Roberto Nordacci, vanno mano nella mano, e in un certo senso l'utopia potrebbe essere vista anche come quella macchina argomentativa, quello strumento che facendo leva sull'immaginazione degli esseri umani, ci aiuta a trovare le risorse di motivazione per trasformare le nostre idee sulla giustizia in un progetto politico che vale la pena di essere perseguito e per il quale le persone siano, diciamo, in un certo senso disponibili a mettersi in gioco con tutto quello che questo comporta dal punto di vista, diciamo, dell'impegno democratico per cambiare una società. L'utopia quindi non è, diciamo, un'immagine astorica di un modello che poi andrebbe calato sulla realtà, costringendo la realtà dentro lo schema di una società perfetta, perché è invece semplicemente una rappresentazione, un'immagine del mondo umano come potrebbe e dovrebbe essere, questa dimensione del dover essere viene in origine richiamata in riferimento a un testo molto bello di Martin Buber e poi diventa uno dei fili conduttori del libro di Roberto Nordacci, quindi del mondo umano come potrebbe e dovrebbe essere se solo gli esseri umani fossero all'altezza di se stessi. Che cosa vuol dire essere all'altezza di se stessi? C'è un passaggio molto bello, secondo me, del libro che si trova a pagina 49, in una parte che è dedicata appunto a una discussione di alcuni aspetti appunto dell'utopia di Moro e qui Roberto Nordacci difende l'idea che l'utopia di Moro inaugura un metodo per il pensiero politico che rinnova e però trasforma in maniera molto significativa, quindi diciamo in un certo senso rappresentando anche uno scarto, un salto rispetto all'antichità, la tradizione della miglior forma di Stato. Si tratta, lui scrive, di un esercizio immaginativo realistico ma al tempo stesso normativo, rivolto a tutta la società nel suo insieme, cioè a tutte le classi, e realizzato pensando a persone libere ed uguali. Questa linea utopica di pensiero politico che include metodi e contenuti si contrappone sia alla tradizione della cosiddetta scienza politica, che si fa risalire non senza un eccesso di semplificazione a Machiavelli, sia alla tradizione che diverrà dominante in filosofia politica, ovvero quella dei sistemi normativi basati sullo stato di natura, Hobbes prima e Rousseau poi, e sui contratti siglati per uscire da esso. Locke è ancora Rousseau fino a Kant. Queste tre tradizioni di pensiero politico si possono considerare complementari fra loro, ma fra di esse vi è da sempre una simmetria. Scienza e filosofia politica hanno sempre teso a svalutare l'utopia e considerarla solo un gioco letterario, non riconoscendone appieno il valore anzitutto metodologico e sostanziale, salvo poi, come vedremo, ricorrere più spesso di quanto si creda proprio alla creazione utopica, o almeno al suo concetto, per esprimere l'irrinunciabilità e la specificità di un'idea di giustizia che è appunto propriamente moderna, quella di una società di cittadini liberi e di uguale dignità che vivono ragionevolmente e per quanto possibile felicemente insieme. Questo tema dell'immagine, diciamo così, è una cosa che secondo me viene spiegata in modo molto chiaro in un passaggio del libro in cui Roberto Mordacci caratterizza quelli che per lui sono cinque elementi dell'utopia nel senso moderno. Qui di nuovo il riferimento è in primo luogo a Thomas Moore, ma non solo a Thomas Moore, perché Thomas Moore viene visto, come dicevo, come l'iniziatore di una tradizione di pensiero. Questi cinque elementi sono innanzitutto quello per cui l'utopia nasce dalla critica della società presente, quindi non è un ragionamento a partire da un'idea a priori del bene o della società o dell'anima umana, come nella Repubblica di Platone, ma è un discorso interno a una società realmente esistente che però cerca, proprio ragionando sulle condizioni del cambiamento, anche di forzarne i limiti, quindi di mostrare come certi assetti sono storicamente dati, ma non sono necessari soltanto perché sono storicamente dati. Qui secondo me sono molto interessanti i passaggi in cui Roberto Mordacci discute la critica di Thomas Moore del sistema di proprietà che si era in qualche modo instaurato nel Regno Unito con la crisi del feudalesimo e in particolar modo del meccanismo del processo delle enclosure, che è quello che in qualche modo sancisce questo nuovo modo di guardare la proprietà. Un tema classico del pensiero marxista, che però Roberto Mordacci giustamente ci ricorda è presente in Moore ed è presente conducendo a uno degli esiti che sono stati più oggetto di derisione dell'utopia di Moore, cioè la sua critica radicale della proprietà privata. Qui però c'è dietro il discorso sulla proprietà privata e questa suggestione di comunismo, c'è in realtà un ragionamento molto serio, un ragionamento che in un certo senso fa i conti anche con la realtà economica in un modo qualche tempo fa, quando io ho fatto quella lezione qui per la scuola di politica, ho riletto dopo anni l'utopia di Tommaso Moro e mi sono sorpreso nel leggerla, nel rendermi conto di quanto fosse concreto, dettagliato, in un certo senso basato su considerazioni anche di carattere economico, il ragionamento di Moore sulla proprietà privata e sui limiti del sistema di appropriazione che lui stava vedendo realizzarsi in un certo senso in tempo reale nell'Inghilterra del suo tempo. Non bisognerebbe dire Regno Unito perché in quel momento non c'era ancora il Regno Unito. Secondo punto molto importante, secondo di questi cinque elementi, l'immagine utopica è resa attraverso una narrazione, una descrizione sistematica. Questo è un punto molto interessante. L'utopia è il resoconto, attraverso una pluralità di voci di un viaggio in una terra che viene presentata come realmente esistente. La cosa interessante è che nell'opera Moore effettivamente ci dà non semplicemente un modello, ma ci dice tutta una serie di cose su come questa società funziona, su come è nata, su quali sono le circostanze peculiari che hanno fatto sì che una società con queste caratteristiche si sviluppasse in questo luogo non facilmente raggiungibile e come anche i suoi abitanti si sforzino di preservarla, quindi avendo una partecipazione alle vicende del resto del mondo che però è estremamente guardinga rispetto al farsi trascinare in quelli che erano i meccanismi per esempio imperiali della politica di quel tempo. Moore scrive il momento storico in cui gli imperi europei sono nella loro fase di ascesa. Terzo punto, l'immaginazione utopica e razionale, quindi non si tratta di un sogno, non si tratta di una fantasia nel senso deteriore del termine, perché attraverso il racconto l'utopia viene articolata secondo le sue ragioni. C'è una discussione interna nell'opera di Thomas Moore che passa attraverso appunto il dialogo tra i protagonisti, che in questo senso ricorda indubbiamente il dialogo platonico, però mette questo strumento, che è uno strumento classico della tradizione filosofica, al servizio appunto di un nuovo modo di concepire il ragionamento sul regime politico ideale, potremmo dire, che non è quello della società perfetta, ma è appunto quello di un dover essere storicamente situato che ci conduca alla realizzazione di un potenziale che però è presente negli esseri umani come essi sono. Thomas Moore non assume esseri umani perfetti, non assume esseri umani dotati di capacità che siano irragionevolmente distanti dalle capacità degli esseri umani come lui li incontra nella società inglese del tempo e come tutto sommato anche noi per certi versi possiamo dire di conoscerli nella vita quotidiana. Quali sono le condizioni perché si realizzi il meglio del potenziale umano? E qui di nuovo leggo rapidamente un brano del libro di Roberto Mordacci che di nuovo commentando Moore secondo me chiarisce molto bene questo punto. L'isola di Moore non è la città degli uomini buoni, è una comunità di cittadini ragionevolmente virtuosi ma normalmente esposti a cadere nell'errore e nel vizio. Vi sono tribunali e sanzioni che in una città di persone perfette non avrebbero senso. È prevista la decadenza del principe nel caso non si dimostri all'altezza del compito. È possibile il divorzio se la convivenza si fa intollerabile o se vi è adulterio. Il lato ideale di utopia risiede nel disegnare una città che sarebbe semplicemente possibile e che la cruda descrizione di Machiavelli invece non consente di vedere. Le lotte per il potere non sono la totalità del politico. Questo secondo me è un punto importantissimo su cui ritornerò tra poco in conclusione. Prima di questo punto volevo rapidamente ricordare alcuni altri aspetti secondo me interessanti del libro. Abbiamo detto che, e questo è il quinto elemento della nozione di utopia, il pensiero utopico rappresenta un'apertura verso il futuro, un'apertura che però non si caratterizza in una dimensione, questa è un'altra parte molto interessante del libro, di una temporalità di lungo periodo, una temporalità che riguarda la realizzazione di un fine ultimo della storia, perché proprio il fatto che Moore insista tanto sull'idea che utopia è un non luogo, come dice il nome, questa è tutta la dimensione ironica del suo discorso, però è nello stesso tempo un luogo che potrebbe ben esistere perché ci descrive una società che non è inconcepibile, si realizzi date le condizioni. Questo rende l'apertura al futuro del discorso sull'utopia, l'apertura a un futuro che appare in qualche misura a portata di mano, un futuro per il quale vale la pena dibattersi, questa è la dimensione motivazionale. Non c'è bisogno di avere una fede relativa ai tempi ultimi, una fede di carattere religioso, l'affidarsi a una rivelazione per accettare il messaggio dell'utopia, perché in realtà il discorso dell'utopia è il discorso di ciò che noi potremmo realizzare partendo dai limiti delle nostre società, partendo dai difetti delle nostre società e cercando di cambiarli, di migliorare le nostre società, liberando il potenziale degli esseri umani, potenziale che si realizzerebbe pienamente se gli esseri umani riuscissero appunto a vivere in una maniera che non è quella, diciamo così, in qualche modo schiacciata, repressa di regimi che non, come era per certi versi quello che Moore critica, diciamo, di certi aspetti dell'Inghilterra del suo tempo, in particolar modo per quel che riguarda il sistema economico, delle società nelle quali gli esseri umani si trovano a vivere. Quindi non il paradiso, non l'indicazione di un futuro che è fuori dalla portata degli esseri umani, ma invece qualcosa che noi possiamo sforzarci di realizzare, qualcosa a cui possiamo tentare di avvicinarci. Come ho detto, nella ricostruzione storica, che è molto interessante e a mio avviso molto condivisibile, Roberto Mordacci ci accompagna attraverso alcuni passaggi molto importanti, molto importanti, il rapporto tra utopia e modernità, l'illuminismo. C'è una parte molto bella sul socialismo, dove Roberto Mordacci ricostruisce il famoso passaggio del socialismo dall'utopia alla scienza, l'espressione di Engels. E però sembra suggerire, e anche su questo mi piacerebbe sentire lui cosa pensa, la possibilità di un ritorno all'utopia del socialismo o comunque di un ideale di emancipazione. Nelle pagine finali del libro Roberto Mordacci accenna una serie di tendenze che in questo momento si stanno manifestando e si stanno manifestando in modo particolarmente robusto, non solo i movimenti ambientalisti legati al tema della catastrofe ambientale, ma mi sembra più in generale tutti quei movimenti di riformismo radicale che sono presenti nel dibattito contemporaneo. Io personalmente trovo molto interessanti perché in un certo senso ci rimandano alla possibilità di una nuova ondata di pensiero emancipatorio. Lui fa riferimento tra le altre cose a un lavoro recente di Philip Van Parijs che peraltro ultimamente ha scritto proprio a Milano, è venuto a presentare tempo fa un paper sull'idea di utopia, quindi la cosa è nell'aria in qualche modo. E questo è uno dei punti che io trovo più interessanti perché ho trovato nel ragionamento di Roberto Mordacci un parallelo molto suggestivo con il percorso intellettuale di un autore a me molto caro, Jerry Cohen, che da una posizione marxista e quindi di rifiuto dell'utopismo, attraverso una riflessione sui limiti del socialismo scientifico approda una rivalutazione dell'utopia nel senso di Mordacci, cioè del pensiero normativo che si sforza di articolare le ragioni di una società più giusta e quindi di mostrare come noi potremmo migliorare la società nella quale viviamo se soltanto accettassimo la sfida di essere all'altezza delle nostre capacità di essere delle persone più giuste. Il famoso interrogativo che Jerry Cohen si poneva nel suo libro, nelle Turner Lectures, se sei un egualitario come mai sei così ricco? È la domanda che inevitabilmente un nuovo modo di pensare l'utopia, un ritorno all'utopia pone a un certo tipo di acquiescenza della sinistra post-89. Ho accennato al tema del riformismo e c'è una cosa che mi piacerebbe sottolineare. Io credo, se ho compreso il senso di fondo del discorso di Roberto Mordacci, che in questo libro ci sia effettivamente un pezzo del ragionamento di cui noi abbiamo bisogno per dar vita a un riformismo radicale. Noi siamo ancora in Italia più che altrove schiacciati da una contrapposizione che ha a che fare con una vecchia vicenda del socialismo novecentesco tra rivoluzione e riforma. La vecchia, il dibattito su Benstein, tutta quella roba lì. Tutto questo, dopo l'89, è stato letto in un modo, secondo me, sempre più asfittico, sempre più ideologico. E qui c'è un altro aspetto molto interessante di Roberto Mordacci. In che senso l'utopia è anche un antidoto nei confronti dell'ideologia. In questo caso l'ideologia del there is no alternative, del non possiamo fare altro che continuare a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi 30-40 anni. Perché qualsiasi tentativo di mettere in discussione gli assetti di potere consolidati, il tipo di equilibrio distributivo che c'è nella nostra società è utopia e quindi negativo. Il riformismo non vuol dire l'acquiescenza nei confronti degli assetti di poteri consolidati. Non era certamente questo il riformismo socialista dei primi del novecento. E così come non è affatto vero che il riformismo escluda la possibilità di pensare la politica anche nella sua dimensione di conflitto. In qualunque società, per via del fatto che c'è una distribuzione degli oneri e dei benefici della cooperazione sociale, c'è inevitabilmente conflitto. Ovviamente i riformisti nel novecento fecero una scelta che era la scelta di non utilizzare la via della violenza per perseguire il socialismo. E quella scelta rimane, a mio avviso, valida. Però questo non vuol dire cercare di mettere sotto il tappeto il conflitto distributivo. Perché il conflitto distributivo c'è, ed è ciò, cioè l'analisi, la critica, la proposta di alternative, è ciò di cui il pensiero utopico, a mio avviso, si alimenta. Esattamente come era nel Thomas More che analizzava il regime della proprietà del suo tempo e lo sottoponeva a una critica radicale. Quindi non il riformismo che abbiamo conosciuto nel periodo post-89, ma il riformismo di tutte quelle dimensioni, diciamo, si dispinta verso la trasformazione, verso una società più giusta alle quali stiamo assistendo negli ultimi tempi. Io mi fermo qui perché ho già parlato troppo e chiudo con una citazione molto breve di un autore che io amo molto e che ha scritto molto sull'utopia. Un italiano che è poco conosciuto in Italia, Nicola Chiaromonte, in un testo molto bello su il realista e l'utopista. Chiaromonte a un certo punto dice, a proposito dell'utopia, la questione è se le azioni politiche debbano essere giudicate secondo criteri simili a quelli con cui si giudica un'operazione meccanica, come una combinazione di forze e di risultati efficaci in cui il giusto e l'ingiusto, il vero e il falso, il bene e il male non abbiano nulla a che vedere. Ora, io nel libro di Roberto Mordacci ho trovato un po' lo spirito delle migliori pagine di Nicola Chiaromonte e questo è, credo, forse il più grosso complimento che posso fare a Roberto. Per cui vi raccomando davvero di leggere questo libro e spero che ci sia occasione di discuterne ancora perché è veramente un libro che fa pensare, che fa riflettere, che ci aiuta a mettere in discussione pregiudizi e luoghi comuni e quindi fa quello che la migliore filosofia deve fare. Bene, grazie Mario. Devo dire che dopo tanti elogi che ti ha fatto, Mario, curioso come tu adesso interloquisci perché in effetti devo dire che ti ha presentato in modo assai lusinchiero il libro che hai fatto. Prego Roberto. Grazie Ferruccio intanto di aver organizzato questo incontro e di averci ospitato e di ospitarci qui in questa che è comunque sempre la casa, la casa della cultura, quindi siamo online, siamo in casa. Siamo in casa virtuale, ma insomma. La casa della cultura diventa le nostre case, per dire così. Io non so come ringraziare Mario perché non sono l'ho accolto perfettamente in gran parte di quello che cercavo di dire e o lo ha espresso meglio di come avrei potuto fare io, ma ha dato numerosissimi spunti di approfondimento che veramente vanno molto oltre il mio libro. Io mi sono trovato in questo tema un po' senza saperlo, senza volerlo, mi ci sono appassionato e non pensavo di scriverci un libro sopra fino a quando, chiacchierando con Giuseppe La Terza sentendomi così appassionato del tema che avevo scoperto pian piano, insomma, negli ultimi anni, lui diceva bene, allora quando me lo dai questo libro, no? Che era un libro non programmato, per cui io mi sono ritrovato a dire, vabbè, forse ha ragione lui, bisogna occuparsene. Ma bisogna occuparsi del tema, cioè bisogna, secondo me, comprendere, questo tu Mario lo dicevi molto bene, che è una società che non è più, capace di formulare un pensiero utopico, è già di per sé una società totalitaria, è già di per sé una società che ha perduto la capacità non solo di guardare avanti con questo strano rapporto che il pensiero utopico ha col futuro, per cui in realtà l'utopia è presente, l'utopia è raccontata da Raffaele Tlodeo a Tommaso Moro e a Peter Gill come una cosa che esiste in quel momento lì, non una cosa da sperare, ma poiché è buona è davanti a noi, poiché è realizzabilmente buona è davanti a noi, no? E quindi è il motore del futuro e senza questo motore di un pensiero politico rivolto in avanti una società non si salva, soprattutto quando è in una profonda contraddizione, nei propri elementi strutturali. Quello che emerge molto, secondo me, dalla lettura di Moro oggi, se lo vai a rileggere, è questa profonda consapevolezza che il sistema di produzione della ricchezza, di creazione di benessere e di produzione dei beni necessari per la vita, che si andava instaurando in quel momento quella forma di protocapitalismo basata sulla privatizzazione della terra, perché poi è la cosa sconvolgente delle enclosures, non solo va bene il protocapitalismo della proprietà privata, il profitto privato, ma è il fatto che da un lato scardinava dall'interno il sistema feudale che aveva come compito la protezione del territorio e la possibilità che questo territorio protetto dal feudatario fiorisse perché coltivando i beni che erano necessari potesse vivere. Quindi scardinare questo sistema significava scardinare un equilibrio economico precario, ingiusto per tanti versi, poi privo di libertà, per cui figuriamoci, non c'è nessuna nostalgia del Medioevo, soprattutto in Thomas More e nemmeno in noi. Ma la cosa sconvolgente è che quella privatizzazione More la vive come la privatizzazione del bene più comune che esista, cioè la terra. La terra che appunto viene coltivata e non più coltivata ma messa a pascolo per le pecore inglesi che diventano mangiatrici di uomini, come lui dice, diventa soltanto fonte di arricchimento di alcuni e di sommo gravissimo impoverimento di altri. La terra, la terra che oggi torna ad essere il tema in tutt'altra chiave, ma se ci pensiamo bene non troppo lontana. La chiave dell'ecologia è la chiave della proprietà comune della terra, della terra come bene comune della quale ci possiamo occupare solo in comune, non privatizzando il problema. E qui privatizzare il problema non significa tanto dire che la terra, l'occuparsi della terra dal punto di vista ecologico non possa essere appaltato ai privati, perché naturalmente non è questa la questione, è che non può essere appaltato ai singoli stati, che sono come i feudatari di un tempo che appropriandosi del proprio territorio rivendicano una totale autonomia e indipendenza su ciò che su questo territorio fanno, tale da non coordinarsi con l'insieme dell'economia globale. E lo stesso facevano i landlords, i landlords diciamo, finché guadagno io con la vendita della lana, delle pecole che pascono sui miei territori, del resto che può importarli. Questo era un attacco in realtà all'agricoltura, ma era anche un attacco a quel barlume di giustizia che teneva insieme dal punto di vista anche ideologico i regimi feudali, cioè il re garantiva che i feudatari proteggendo il territorio consentissero nel regno quella circolazione dei beni che consentiva una vita accettabile per tutti, nonostante appunto le grandi differenze che ci fossero. E qui appunto stiamo lavorando su un'altra scala, una scala globale, è una scala in cui non ci può essere, Dio ce ne scampi, un re che federa tutti gli stati nazionali, ma viva Dio qualche tipo di coordinamento degli stati sovrani e nazionali fra di loro ci deve essere, perché altrimenti l'intero del sistema terra, come sistema economico, politico, sociale, precipita. Quindi l'analogia secondo me tra quel momento storico che Moore descrive come ciò che sta prendendo una china non sostenibile e il nostro momento è molto forte. Il motivo per cui mi sono trovato a studiare questo argomento è appunto collegato al fatto che ho finito prima di questo di scrivere un libro che si chiama La condizione neomoderna, in cui mi era capitato di argomentare e di riflettere sul fatto che noi siamo in condizioni un po' simili, un po' analoghe all'inizio dell'età moderna, con tutte le differenze del caso, ma insomma crollano i grandi sistemi di equilibrio geopolitico e quello che tu ricordavi a proposito proprio del riformismo, liberalismo, socialismo, quel sedersi post 89 intorno a una visione grosso modo liberale e riformista ma senza grossi scossoni, perché fondamentalmente un blocco ha vinto, in realtà non ha generato il dominio di quel blocco, di quel modello politico e economico e soprattutto culturale, ha generato la deflagrazione di una molteplicità di centri di potere che sono in lotta fra di loro non solo in termini economici e politici per il dominio sul mercato, ma in realtà sono in lotta fra di loro per il dominio culturale, sono modelli culturali quelli che si confrontano, il modello cinese, quello russo, quello americano e quello europeo, per citare solo i quattro grandi player, poi ci sono i paesi islamici che sono un altro mondo ancora e poi bisognerebbe capire che cosa succederà mai in Africa se riesce a succedere qualcosa, però questi equilibri geopolitici sono molto complessi, completamente nuovi, come erano nuovi gli equilibri geopolitici creati nell'inizio della modernità con le scoperte geografiche, di cui appunto More ha un eco, perché non dimentichiamo che Utopia intanto è un'isola che si trova in un posto imprecisato tra il Pacifico e più o meno nel Pacifico, ma non è nemmeno chiaro se sia nel Pacifico o nell'Atlantico, comunque zone in corso di scoperta. Poi appunto Raffaele di Tlodeo è un viaggiatore al seguito di Amerigo Vespucci, dunque l'eco di quelle scoperte è l'eco appunto di un cambiamento epocale dell'ordine geopolitico, e cosa fa More? Dice che dobbiamo ripensare l'ordine economico a partire dalla nazione, dallo Stato che è nascente, lui non può non registrare questo, non può pensare More in termini veramente globali, non è ancora attrezzato a fare questo, ma in questo lo aiuta il fatto che per fare il pensiero utopico lui ha bisogno di un artificio, l'artificio è quell'isolamento di utopia dalle dinamiche troppo complesse e ancora incomprensibili del mondo globalizzato. Allora se pensiamo utopia come un po' conchiusa in se stessa, possiamo pensare le forme della giustizia economica e politica che potrebbero funzionare in una buona società. Da questo punto di vista noi dobbiamo non ripetere le soluzioni di More o neanche semplicemente il suo modello politico, dobbiamo ripetere il modello metodologico, cioè il metodo. Ed è su questo che appunto mi sono trovato poi a lavorare ancora dopo la chiusura del libro, il libro uscito a gennaio l'avevo consegnato qualche mese prima, per cui in realtà pensavo, capita spesso che dopo aver scritto un libro in qualche modo ti prendi una vacanza e cambi argomento. Io non l'ho fatto perché in realtà il tema è veramente centrale secondo me oggi e basta vedere appunto anche le suggestioni che tu hai dato. Tu hai citato tre autori che io non ho citato, tu hai fatto bene a giustificarmi, non si può rendere conto di tutta la letteratura che ha trattato l'utopia in un libro di 150 pagine, ma Thomas Nagel, Jerry Cohen e Nicola Chiaromonte sono autori che aprono universi di elaborazione sull'utopia che bisognerebbe tenere conto, che bisognerebbe sviluppare. Ma le direzioni da prendere sono moltissime. Per tenere un pochino di ordine su questo argomento che poi diventa sfuggevole, un po' superficiale, un po' letterario, io mi sono concentrato un po' sul tema del metodo. E l'ho fatto attraverso un'operazione che era iniziata già quando stavo chiudendo il libro, che è quella di, con un giovane collaboratore esperto di latino medievale, di fare una nuova traduzione del testo. Una versione italiana con il testo latino a fronte. L'ultima volta in cui questo è successo è stato negli anni 70 a cura del grandissimo Luigi Firpo, che però fece un'operazione stranissima. Pubblicò un testo dell'utopia di Moore con il latino a fronte e traduzione italiana senza commento quasi. Quindi non un'edizione critica ma solo appunto la filologia del doppio testo. E poi poco dopo, pubblicò due anni dopo, un'edizione critica dell'utopia ma solo in italiano, con una quantità di informazioni sterminata. Il commento di Firpo a Utopia è ancora, diciamo, uno dei più informati e anche filologicamente più adotti che ci siano in giro. Allora, siccome da non moltissimi anni la edizione degli scritti di Moore, in particolare di Utopia, che era quella classica della Yale degli anni 60, è stata rivista e corretta dalla Cambridge, da Cambridge University Press, guidati da George Logan, che è uno dei massimi esperti del pensiero di Moore, abbiamo pensato di utilizzare l'edizione critica del testo latino, rivista e corretta dalla Cambridge Edition, che ancora in Italia non si è mai vista, e affiancarla a una nuova traduzione italiana. E in questa occasione ho tentato, diciamo, Luca Girardi che ha fatto la traduzione italiana, ha fatto una traduzione spettacolare, secondo me, in cui si risente molto l'eco della situazione rinascimentale. Ma nell'introduzione ho cercato di dire in che senso il pensiero di Moore è attuale soprattutto sul piano del metodo. E su questo appunto mi piacerebbe pensare anche cosa ne pensi tu. Cioè io trovo che, già nel libro cercavo un po' di dirlo, ma poi questa cosa è diventata un po' più chiara, perlomeno nella mia testa. Cioè, il metodo dell'utopia è il metodo non di partire da un'idea della giustizia, o ancora di più, da una teoria della giustizia economica, politica, sociale, e provare a immaginare come sarebbe una città, uno stato, giusto secondo quella teoria. Ma lo si vede molto bene da come procede il racconto di Moore, e lo si vede anche da solo dal fatto che Moore prima scrive il secondo libro, che è il racconto dell'isola, giusta e felice, e poi scrive il primo libro, che è il racconto della situazione dell'Inghilterra, è il racconto di come Itlodeo presenta la cosa, e dove in realtà è la parte più teorica del libro, di Utopia, perché è la parte dove i principi vengono fuori. Allora, l'apparenza è che i principi stiano scritti in quel dialogo fra Itlodeo, Moore e Gilles, e poi vengono applicati nel racconto, ma la realtà è il contrario. La realtà è che prima Moore immagina, quasi senza sapere, per così dire, quali siano i principi che la reggono, immagina una società giusta e felice. Si proietta là dentro e dice che cosa vedo? Vedo uomini e donne in condizioni paritarie, pronunciate per il tempo, diciamo non c'è la parità proprio dei sessi, ma perché la società è ancora tendenzialmente patriarcale, ma per esempio l'introduzione del divorzio è significativa, il ruolo della donna non è di sottomissione, è di partecipazione, però con ruoli distinti. Però vinti una società di persone libere, uguali nel rapporto dei sessi, ma soprattutto uguali nella loro condizione sociale comprensiva, cioè tutti partecipano al lavoro comune, il lavoro della produzione dei beni essenziali, quello agricolo, lo fanno per un tempo non eccessivo nella giornata, che non li rende appunto asserviti al gioco della fatica del lavoro, non più di sei ore, non più di sei ore al giorno di lavoro. E il resto del tempo è occupato in quella vita comune, culturale, di divertimento, anche di condivisione dei pasti, di musica, e in altre occupazioni che uno si sceglie liberamente, che non sono esattamente degli hobby, perché è la vita artigianale, l'artigianato vive in utopia di questo secondo lavoro, su base volontaria, su base così anche di tramanda, di tradizione intrafamiliare, di una certa pratica, appunto in cui si tramanda di padre e figlio il come fare certi oggetti, mentre il lavoro agricolo è comune, si tramanda anche quello, ma in maniera trasversale tra le famiglie, ed è comune a tutti. E in questo, la condivisione dei beni creati in comune, consumati in comune, e circolati in comune, senza scambio di denaro, c'è una direzione politica di tipo rappresentativo. Ogni famiglia, che in realtà sono 40 persone, perché sono blocchi familiari allargati, ha un rappresentante che fa parte di una sorta di parlamento allargato, che elegge un corpo politico più ridotto, una specie di senato, che elegge il principe, il quale ha una carica a vita, però come tu ricordavi, in realtà può essere fatto decadere se si dimostra indegno. Cioè, è un sistema fondamentalmente rappresentativo. Una delle norme che mi ha più colpito in Tommaso Moro è che nulla può essere deciso prima di essere stato discusso almeno tre giorni di fila nel Senato. Questo per evitare che le decisioni arrivino a livello della decisione politica, nell'organo politico che promulga la legge, dopo aver attraversato una fase nascosta di negoziazione nei corridoi, come purtroppo invece avviene nella politica normale, anche nella politica parlamentare. Sappiamo bene che appunto spesso il provvedimento in discussione e il Parlamento in realtà è frutto di una serie di mediazioni che sono avvenute fuori dal Parlamento. c'è una messa in scena, qualche volta nemmeno troppo curata o decorosa. Allora, invece l'idea è che lì questo meccanismo rappresentativo significa che la cura del bene comune è condivisa perché tutti hanno una competenza minima su ciò che si deve fare per avere i beni in comune disponibili, per poterli commerciare e distribuire fra di loro e per poterne usufruire. Allora, il metodo. Il metodo è che questa idea, questa immagine che ho brevemente tratteggiato, ma nel racconto di Moro è molto ricca, molto più piacevole, c'è questa cosa dei giardini che è bellissima, questa gara che fanno gli utopiani ad avere il giardino più bello, di case che non sono di poca età. Le case non appartengono a chi le abita, le si abita per un massimo di dieci anni e poi le si cede, si gira. Allora, tutto questo è un esercizio immaginativo normativo, cioè come dovrebbe essere, lo immagino prima di definire la teoria che lo sorregge. E Moro dice, ho scoperto che questa immagine della società giusta si basava su alcuni punti fermi, che sono, certo anche quello che tu ricordavi, che è il tema che unisce molte utopie, ma in realtà in modi molto diversi, cioè l'abolizione della proprietà privata. cioè l'idea che non puoi privatizzare ciò che contribuisce e che è parte del bene comune, anzitutto la terra, come si diceva, ma appunto anche la proprietà dei beni che possano creare quella rincorsa alla dominio, alla supremazia, alla differenziazione sociale, che non è negativa di per sé, perché appunto la gara continua presenta nei giardini, ma è negativa se deve essere soltanto un moto di appropriazione e non un moto di competizione sana per vivere meglio. E questa è la sua idea. Quindi l'elemento comunistico va pensato in una situazione pre-lotta di classe, in qualche misura. Quindi non va accentuato troppo, secondo me, l'elemento che assimila questa idea alla tesi del contrasto alla proprietà privata nei termini della lotta al capitalismo. C'è un po' tutto questo, ma in una maniera decisamente diversa da come è ovviamente in Marx e nel marxismo. Poi appunto l'altro grosso elemento che spesso un po' sfugge è l'eguaglianza, cioè l'equità sociale. Il punto è che il vero motto ispiratore è a nessuno manca il necessario. E a tutti sono aperte le possibilità di accedere a quello spazio di libertà individuale che non è l'intrapresa o l'accesso al mercato, ma è la libertà individuale di fare quel lavoro, quel lobby, quell'artigianato che uno ha voglia di fare. Tra l'altro se un figlio nasce in una famiglia di artigiani pellettieri, ma non ha nessuna voglia di fare quel mestiere, può uscire da quel blocco familiare, da quel conglomerato e entrare in un altro che magari fa ceramiche o altre cose. cioè il punto è che non c'è un vincolo e questo vincolo è un vincolo fra uguali. Cioè questa assenza di vincoli è l'assenza di vincoli fra uguali che hanno un uguale diritto ai beni per vivere e alla libertà di fare per il resto ciò che loro ritengono buono e positivo, con l'unico vincolo appunto di contribuire al bene comune. Poi ovviamente ci sono tratti dell'utopia che qualche volta ci lasciano un po' perplessi, c'è una certa frugalità forse eccessiva, l'idea che non c'è differenziazione alcuna per esempio nel vestiario tranne che nel distinguere gli sposati da gli non sposati. Ma poi tutto questo è caduco ed è per questo che io dico non ci deve interessare il modello politico di muovo, ci deve interessare questo metodo e il metodo è come immaginiamo la società ragionevolmente giusta nella quale vorremmo vivere da qui a domani o 10-20 anni. E questo esercizio libera dalla necessità da due cose fondamentalmente libera secondo me. Uno dalla necessità di dover pensare prima il sistema, di dover pensare prima la teoria, di dover pensare prima come dire, il concetto e la teoria della giustizia giuste, perfette, buone, valide, che convincono tutti per arrivare alle soluzioni pratiche. Vede delle soluzioni pratiche di cose che accadono in quella società che non sono neanche mirabolanti, sono una società tecnologicamente non particolarmente avanzata, ma con istituzioni buone. e si chiede a ritroso quali siano i principi di istituzioni che funzionano così ragionevolmente bene. E la seconda cosa da cui libera un pensiero utopico di questo tipo è dalla dittatura appunto della, come dire, di un certo metodo di pensiero politico che si può chiamare realismo antinormativo se vuoi, ma che dice non puoi immaginare una società giusta, devi semplicemente pensare cosa accadrà sulla base delle leggi scritte nella dinamica politica. Non che questo non si debba fare, non che non si debba comprendere la dinamica politica reale, ma se ci si fa dettare la legge di ciò che la società deve essere dalle dinamiche reali interamente non abbiamo alcuno scarto per migliorare, non abbiamo alcuno scarto per pensare in modo alternativo all'ordine esistente. E' quello che Karl Mannheim secondo me quello è un libro profetico 1929 Ideologia e Utopia quando lui nel bel mezzo del dibattito socialista proprio marxista proprio sul tema ma è più importante la scienza sociale o la spinta utopica che è innegabile nel pensiero socialista anche in Marx anche in Engels e poi per quanto loro la critichino un minuto dopo il loro attacco ai socialisti utopici un minuto dopo l'utopia ritorna per esempio in questa forma interessantissima affascinante quasi romantica del libro di Karl Kautsky che scrive pochi anni dopo il pamflet di Engels contro l'utopia scrive un commentario all'utopia di Moro dove dice che Moro invece è il grande ispiratore di ogni pensiero comunista che si rispetti che l'utopia è un modo di pensare assolutamente allineato all'idea di giustizia e che non possiamo assolutamente dimenticarlo rischiando di essere cacciato e arrabbiato non se la passò bene Kautsky dopo questo libro ma diciamo lui ha capito subito quello che poi capirà Ernst Bloch quello che capirà Martin Buber cioè che non ci può essere pensiero di emancipazione sociale di giustizia senza utopia e allora di nuovo qui vuol dire che il metodo consiste nella proiezione di questa immagine del desiderio come la chiama Martin Buber nella forma più concorrenta possibile e poi chiedersi se questa immagine che abbiamo ci suggerisce dei principi su cui impostare un'azione politica ordinata di trasformazione perché il vero difetto del pensiero utopico se lo si vuol dire è che non ti dice non te lo dice direttamente come si passa dalla realtà all'utopia dal presente al futuro dalla disordine attuale dall'ingiustizia alla giustizia se c'è una cosa che il socialismo scientifico invece vuole fare è esattamente questo Engels dice voi Fourier Owen e quant'altri non arriverete mai a combinare nulla perché vi mancano le basi della comprensione della scientifica della realtà politica senza comprendere le meccaniche di questo non capirete nulla di come si trasformeranno e non sarete in grado di portarlo verso quella direzione allora questo è vero però appunto secondo me c'è un'incomprensione che in Engels in questo cioè l'immaginare la società giusta e ragionevolmente felice intanto come dicevi tu Mario come dire scatena una potenziale motivazionale mostruosa cioè è perché io mi vedo là e mi vedo là domani o fra dieci giorni ma non fra duecentomila anni la vedo possibile e se la vedo è perché la immagino concretamente allora vedendomi là si scatena un potenziale motivazionale molto forte tutte le rivoluzioni del novecento della seconda età del novecento i movimenti per i diritti eccetera eccetera erano mossi I have a dream cioè da potenti molle motivazionali di tipo utopico assolutamente utopico ma quando tu ragioni su questo in realtà rilevi anche che il passaggio dall'attuale all'utopico è dettato esattamente da questo potere trasformativo cioè tu hai la capacità trasformativa non perché sai come funziona la società in termini scientifici ma perché la vuoi cambiare e la vuoi cambiare per un motivo perché quello che hai in mente è qualcosa di diverso perché quello che hai in mente è una trasformazione una riforma una riforma profonda o forse persino una rivoluzione secondo me Moro sta un po' al di qua del crinale fra riformismo e rivoluzione uno può leggere Moro e farne l'inizio di un ragionamento rivoluzionario oppure di un ragionamento riformista ma quel che conta è che il motore della trasformazione sta appunto nella comprensione che l'alternativa al modello attuale è un'alternativa possibile e che immaginarla mi dà gli strumenti per cambiare la situazione attuale questo è ancora tutto da esplorare perché nemmeno nei movimenti diciamo così appunto utopici che citavo diritti civili e così via si lavorava a questo modo si faceva invece un'operazione più ingenua più naif cioè quella di pensare che l'immaginazione al potere avrebbe trasformato qualsiasi cosa che la musica cambiava il mondo che Woodstock era l'inizio del grande cambiamento e quant'altro e però poi da lì non nasceva nulla perché quella sì era una proiezione come dire utopica nel senso etteriore cioè superficiale ma l'approfondimento di questo metodo invece della immaginare soluzioni che magari non sembrano immediatamente praticabili o che sembra strano pensare che siano realizzabili e chiudo su questo che il luogo il tema dell'ambiente collegato in maniera necessaria e inscindibile al tema dell'equità sociale della giustizia sociale sia il tema da pensare appunto per muovere energie utopiche che questo è un dato secondo me indiscutibile cioè è evidente è evidente che la necessità di pensare in termini sostenibili e la necessità di pensare in termini di giustizia sociale perché prima che la vita collassi ci seppellirà l'ingiustizia sociale cioè quello che è insostenibile nel modello di sviluppo capitalismo trasfrenato che diciamo ha preso molto a correre aumentando la dismisura la forbice sociale della diseguaglianza quello che testimoniamo a Picchetti con le sue serie storiche quello che vediamo costantemente l'aumento di ricchezza dei super ricchi e l'aumento di povertà dei poveri e il crollo della classe media lo sprofondamento tutto questo è collegato al cambiamento climatico è collegato alla insostenibilità perché in realtà ciò che chiede il mondo il mondo che si sviluppa e che cresce è di appunto poter crescere e chiede quindi un po' meno di iniquità sociale solo che quando lo fa attraverso il modello industriale della produzione non sostenibile rischia di creare la catastrofe dunque il modello di giustizia sociale che è richiesto a gran voce da chi in questa situazione è nelle condizioni peggiori e vorrebbe emergere vorrebbe avere più benessere è un modello ancora tutto da scrivere che sia pienamente sostenibile e che se lo sarà sarà alternativo inegabilmente e insinibilmente alternativo al modello dell'iniquità sociale del capitalismo discriminatorio cioè di quella forma lì che non compensa più non compensa più perché il dramma secondo me degli sviluppi recenti è che un certo modo di produzione e di distribuzione della della ricchezza non compensa più con i diritti l'iniquità che crea allora lì lo spazio di manovra è fortissimo e il punto su cui lavorare in termini politici è l'iniquità si combatte con l'iniquità sostenibile però sapete su questo io qui mi fermo perché non ho gli strumenti no? Cioè qui c'è un pensiero politico da lavorare sul campo sì va bene grazie Roberto solo una considerazione mi sento di fare perché mentre che vi ascoltavo e devo dire io non potevo non pensare in qualche modo che è un piccolo l'evento culturale è quello che stiamo facendo perché questa appassionata rivendicazione dell'utopia insomma abbiamo alle spalle alcuni decenni in cui non eravamo abituati a sentirla Mario ha fatto prima riverimento al famoso testo di Nozzi del 73 come si dice utopia anarchia stato utopia forse l'ultimo in cui il tema dell'utopia era dentro era un'utopia un po' molto sui generis perché l'utopia in cui il tema dell'agilità sociale era radicalmente negato alle radici quindi insomma la vostra argomentazione di oggi è una argomentazione che è perfino sorprendente per la passione con cui l'avete fatta che pone come dire con grande forza il problema che c'è bisogno di rimettere in movimento molte cose nel pensiero politico pur che io ho percepito così cerco di interpretare così questa argomentazione davvero molto molto nuova che avete sviluppato questa sera in cui colgo un elemento sottolineare con grande forza insomma detto questo io come sempre cerco di dire se c'è qualche domanda tra il pubblico e se il nostro regista segnala qualche domanda non ci sono domande allora come dire forse sono stati sorpresi come dire dalla novità dell'argomentazione allora chiedo un flash finale Mario io vuoi chiudere con due parole poi anche chiedo anche a Roberto chiudere con due parole anche lui due parole Mario abbiamo già fatto un'ora e mezzo di discussione quindi io sono molto d'accordo con le cose che diceva diceva Roberto e diciamo anche sulle le le conclusioni ho trovato molto molto interessante il discorso sulle due sulle due fasi cioè pensare prima a un a un modo di vivere e poi in un certo senso fare il percorso verso i principi che che per me riecheggia certe cose anche del dell'impostazione di John Rawls perché c'è qualcosa di ed è una delle cose che io mi sento di sottolineare senza entrare nei dettagli perché come dire è un è un utopismo che non è fatto di dei sogni di un visionario in realtà ma è un utopismo che è fatto di senso della possibilità a partire da istituzioni sociali concrete cioè la cosa di cui l'ideologia di questo di questo tempo che viviamo cerca di privarci è il senso della possibilità e il discorso che fa Roberto secondo me è un discorso che ristabilisce il nesso tra azione politica e libertà e questa è una cosa molto importante tutto il discorso dell'utopia è un discorso di liberazione come lui diceva giustamente anche se ovviamente l'idea di libertà che ha in mente Moore non è quella che noi troveremmo accettabile oggi ed è appunto un discorso che però presuppone il fatto che si aprano spazi di possibilità se noi neghiamo la pensabilità di spazi di possibilità non attuali è chiaro che non c'è più spazio neanche per una libertà umana che sia sensata noi abbiamo soltanto la libertà di fare quel che ci viene chiesto di fare e come la pubblicità di cui oggi si discuteva molto nel Regno Unito che è stata messa in circolazione dal governo a proposito del retraining skills c'è questa ballerina e il messaggio pubblicitario dice lei adesso verrà retrained e diventerà una che lavora in un centro per trattare i dati e così via c'è stata una specie di sollevazione popolare perché molte persone hanno giustamente detto che si associava all'immagine una bella immagine di una persona che fa una cosa bella e nella quale trova realizzazione nell'idea che tu non devi perseguire le tue passioni ma cercare di essere employable come si dice oggi e quindi questo discorso di libertà del pensiero utopistico secondo me è qualcosa di cui davvero come dice Roberto nel suo libro c'è un gran bisogno e spero che la discussione di stasera dia un piccolo contributo in questo senso penso anch'io questo ma prego Roberto a te due parole conclusive prendo lo spunto da questo solo per dire che guardate che questa cosa dell'employability è una grande truffa perché in realtà i lavori che si possono fare li faranno i robot entro una decina d'anni e qui torna Moro perché appunto Moro dice ma che cosa lavorate a fare la cosa importante è avere i beni fondamentali per quello purtroppo bisogna lavorare la terra e almeno 4-6 ore al giorno bisogna farlo ma se abbiamo qualcun altro che lo fa per noi e non sono persone ma sono a macchine e lo fanno in una maniera accettabile non ne faremo altro noi balleremo danzeremo canteremo suoneremo il blues suoneremo il blues suoneremo il blues cioè esattamente la mattina perché mi tocca essere employable vabbè il mio lavoro come il nostro insomma quello di intellettuali è decisamente piacevole ma capite cioè secondo me questa è un po' la cosa un altro elemento utopico non ho potuto parlarne nel libro ma il vero tema da affrontare per il futuro è il rapporto fra tecnica nel senso oggi non negativo del termine appunto la potenzialità che gli strumenti tecnici hanno di liberarci dal gioco del lavoro e però giustizia quindi poi dopo chi guadagna da questo guadagnano solo i proprietari dei mezzi di produzione perché per esempio non tassiamo i robot e quindi tassiamo soltanto i lavoratori e non tassiamo i robot questo è un tema centrale in una vena un pochino diciamo marcusiana mi sono scoperto dopo Moro ho scoperto una passione insana per Herbert Marcuse in me e c'è un famoso libro che raccoglieva i suoi primi saggi degli anni 20 e 30 che si chiama Marxismo e rivoluzione insomma uno pensa sempre al prossimo libro in termini di titoli poi dopo magari le cose cambiano però tecnica e rivoluzione secondo me sarebbe un'ottima idea cioè il punto è di nuovo è ancora questo cioè vedere nella tecnica non più solo il destino dell'Occidente il controllo la negazione dell'essere quant'altro ci hanno voluto ammannire ma il grande potenziale emancipativo solo che non è la tecnica emanciparti è l'uso giusto che ne fai è la giustizia che si realizza attraverso la liberazione del lavoro e dal gioco del lavoro che è quello da pensare ma allora questo è il punto da pensare cioè forse non rivoluzione ma almeno giustizia sì tecnica e giustizia potrebbe anche essere cioè e questo tema qui ripeto è concreto è concreto perché lo scivolone di quei pubblicitari lì è una spia terribile no? è proprio un lapsus freudiano cioè come dire dovete soltanto essere employable ma guardate che in realtà tra un po' nessuno è employable nessuno è employable e allora come si crea la ricchezza da distribuire e come la si distribuisce questo è il nostro tema grazie la convinzione che in qualche modo stasera hai fatto un piccolo evento culturale introdotto gli elementi imprevisti diciamo con questa passione poi nel dibattito pubblico speriamo che abbia le gambe per camminare e noi ci diamo l'appuntamento a un prossimo incontro grazie Roberto Mordacci grazie Mario Ricciardi ciao Roberto grazie a presto grazie Mario grazie Ferruccio grazie a tutti voi ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti